Tronchi, rami e detriti. Queste immagini, realizzate da un nostro telespettatore, mettono in evidenza i problemi esistenti lungo il torrente Arzilla, che nel caso di piogge e forti temporali non ha esitato ad esondare anche lo scorso inverno, provocando danni ingenti. Per questo motivo la maggioranza del comune di Fano ha protocollato una mozione per la salvaguardia e la messa in sicurezza del torrente. L'obiettivo che si pone è quello di far sì che le istituzioni tengano alta l'attenzione sul rischio di esondazione, ricordando le numerose famiglie che abitano nelle vicinanze del corso d'acqua. Sì, questa mozione è un'attestazione di vicinanza di tutta la maggioranza del Consiglio Comunale. Il torrente Arzilla è un torrente che nell'ultimo tratto interessa comunque un abitato di Arzilla e Gimarla e quindi necessita di una manutenzione importante. Un ultimo intervento è stato fatto tra il 2013 e il 2014 grazie alla provincia di Peso Rubino, alla regione Marche che l'ha finanziato, mettendo in sicurezza una sponda. Con questa mozione si chiede di ampliare l'intervento ancora più verso Monte e quindi il comune di Fano e la maggioranza intera chiede di intervenire verso le istituzioni che hanno responsabilità in merito, quindi regione Marche, la provincia di Peso Rubino e il consorzio di bonifica affinché vengano fatti altri interventi per mettere in sicurezza tutti gli abitati. So che ci sono anche segnalazioni verso l'interno del corso d'acqua, dal ponte Mimmo, ci sono tronchi che andrebbero tolti, quindi un'operazione che comunque consente di mettere in sicurezza tutto il percorso.